Professore, siamo tutti molto profani e ascoltiamo voi esperti con il doveroso rispetto, ci carichiamo della responsabilità individuale che ci viene richiesta, dopodiché si rende conto che è complicato capire verso che direzione orientare i nostri comportamenti. Ci aiuti un po' a capire? Guardi, sono molto dispiaciuto che nel dover sinceramente rispondere alla domanda correttamente posta, io possa dare l'impressione di dire delle cose diverse da quelle che ha detto il professor Ricciardi. Allora, io non lo so se ci sarà la seconda ondata, è auspicabile che non ci sia, spero che tutti noi lo speriamo. Se dovesse arrivare abbiamo detto chiaramente e senza poter essere sventiti, che dal momento che tutti i grandi ospedali nel mondo hanno lavorato abbiamo conosciuto questo virus e sappiamo come affrontarlo, nello specifico e anche sul territorio e quindi anche secondo un modello organizzato. Quindi io che non sono contro i vaccini, che quindi sono una persona che crede alla medicina ortodossa e alle evidenze scientifiche dico che gli italiani dovranno, secondo la categoria nota sopra i 60 anni, vaccinarsi contro l'influenza perché questo ci consentirà di identificare meglio eventuali categorie di persone contagiate da altri vaccini. Però dire adesso che forse non faremo tornare i bambini a scuola, non dobbiamo prendere gli aerei, dobbiamo rimanere a casa, beh equivale a dire che dobbiamo morire, equivale a dire che dobbiamo, perché siamo un popolo di imbecilli, chiudersi in casa e aspettare che arrivi questa seconda terribile ondata e cercare di morire il meno possibile. Non è così, non è così. Questo è il famoso lavoro accettato il 4 giugno, pubblicato dal professor Clementi che è stato il primo in uno studio pilota a determinare le cariche virali. È stato uno studio che è stato tacciato prima di non essere mai stato pubblicato, secondo di non essere mai stato accettato. Insomma voglio dire, piantiamola, siamo tutti dalla stessa parte, stiamo facendo scienza, le evidenze ci dicono che domani avete fatto le previsioni del tempo, probabilmente è bello, è bello anche dal punto di vista della diremia.